In Nuova Fertia paga caro alcune assenze importanti, l'ultima delle quali quella di Corazza infortunatosi nel riscaldamento. L'Accademia, allenata da Pietrangeli, si mostra a formazione ben organizzata e cenica. La squadra ospite tiene bene il campo e nelle uniche due incertezze difensive dei locali approfitta al meglio confezionando due gol simili in quanto a fortuna e a situazioni rocambolesche. La partita, e i mangelisti nei primissimi minuti di gara riscalda i guantoni a flamingo con questo diagonale, senza pretese. L'Accademia risponde direttamente al calcio piazzato con un tiro alto di Moretti. Evangelisti, dall'altra parte, dalla distanza, chiama nuovamente la deviazione in corner fra Mingo, ma l'Accademia passa due minuti più tardi. Punizione battuta da Serafini, della Chiesa in maniera fortuita, dispara a Beffa Germani, trovando un gol pazzesco, in quanto il pallone, giocando con il cognome del giovane atleta, viene indirizzato proprio dai Santi, che baciano la maglia bianco-rossa. Ma c'è da dire che c'è anche un'incertezza della retroguarda giallo-blu. In Nuova Fertia vorrebbe l'immediato pareggio. Abdul insiste, vince di forza un contrasto, Evangelisti filtra il pallone e Gori, anziché lo scavetto, prova la conclusione sporca. L'Accademia avrebbe la clamorosa occasione del raddoppio, ma il pallonetto di Tezzelle termina alto. Abdul, con la sua progressione, mette panico alla retroguarda ospite, ma il numero 11 pecca in fatto di precisione. Ci prova direttamente a calcio piazzato a Medei, ma il pallone si alza sopra la traversa. A 44esimo, l'episodio per il quale recriminano i padroni di casa, ma Sartini di Rimini vede bene al momento del passaggio di Gori, Evangelisti, e oltre la linea dei tre difensori dell'Accademia, e quindi in posizione di offside. La ripresa mette subito i brividi a Flamingo, pallonbella di Gori, pallone di poco alto. Punizione di Abdul, Flamingo si supera nella deviazione, dalla bandierina arriva il colpo di testa di Antonini, ribattuto con la sfera che termina sulla testa di Evangelisti, che mette a lato. L'occasionissima capita nuovamente sui piedi di Abdul, ma l'attaccante sviene in area di rigore, forse tradito dall'emozione con Comandini impassibile e con Pietrangeli fiero della prova dei suoi. Al sessantesimo il raddoppio dell'Accademia, incredibile l'indecisione della retroguaglia di casa, la prendo io e la prendi tu, tra i due litiganti il terzo gode, Aglias e Semprini 2-0 e partita finita. A Medei da punizione chiama nuovamente l'intervento Flamingo, mentre dall'angolo da una zona confusa arriva la concursione finale di Sartini, che termina alle stelle, ma Flamingo all'ottantaquattresimo la combina grossa, retropassaggio all'indietro, incertezza se tentare i dribbling o calciare il pallone, morale della favola, sfera che carambola addosso ad Abdul e altro gol fortunoso, sicuramente di diritto entra nella collection di mai dire gol. Intanto Flamingo qui recita una scena che non fa un'ora al ragazzo, autore fino a quel momento di una buona prova nonostante un errore, ma alla fine tutto torna alla normalità, prima che proprio lui salvi il risultato su una conclusione dalla distanza che aveva dato l'impressione dei gol, partita a questo punto ai titoli di coda e pubblico delle grandi occasioni che applaude le due squadre in campo.